una medaglia ancora complimenti e allora già medagliati per Slytherin Olanda 1 è tutto pronto, riceve un dono anche da diligenza il sindaco di offida Valeria Lucelli Vincenzi consegna il premio e allora Profeo al cielo Dio Abbiamo Dio Dio Sì 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 Anche le condizioni meteorologiche non proprio felici nelle ultime ore, gli atleti!